Sala 12 L'essenza di forma e ritmo Il tema di questa sala è il rapporto tra l'opera d'arte e la musica. Mentre la prima si può vedere e toccare, la seconda può, in teoria, soltanto essere ascoltata, non visualizzata. Nell'opera di Hans Richter, l'idea di evoluzione di una fuga di Bach è suggerita da forme geometriche che sembrano muoversi lungo una linea temporale immaginaria, da sinistra a destra. Nelle due opere di Amedeo Zinfant, gli oggetti disposti su una superficie piana richiamano la disposizione di note su un foglio musicale, nonché una combinazione di note che formano una musica da ascoltare.